Sei il padre di Austin, giusto? Sono Cynthia, la mamma di Zach. Ti ho visto all'uscita di scuola. Guilty, mens. Molto piacere. Anche per me. Allora, Georgia dice che era in prigione. Sei sua amica? Non sono sua amica. La odio. Vuoi rimanere in città? Mi piacerebbe, ma... prima devo trovare un appartamento. Bene, posso aiutarti. Sono nell'immobiliare. Sei piena di sorprese, Cynthia della scuola. A Georgia non piaci. Sì, beh, Georgia ha sottratto denaro alla mia azienda. Mi ha incastrato, mi ha fatto licenziare e mi ha mandato in prigione. Quindi direi che neanche io le sono molto affezionato. Beh, ti credo. Ha rubato dall'ufficio del sindaco. Aveva preso dei... Ecco qua, puoi pagare alla cassa. Oh, grazie. Benvenuto a Westbury. È bello essere qui. Bel tipo.